Arrivare ad una decisione sull'eventuale scioglimento anticipato del contratto con Caltacqua non sarà facile nonostante quanto deliberato dalla commissione tecnica che a maggioranza ha optato per la conclusione anticipata del rapporto con l'azienda Italo-Spagnola. Ritenuta gravemente inadempiente, i primi passi mossi dalla nuova assemblea territoriale idrica non sono stati risolutivi. Ieri mattina il presidente dell'ATI, il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, ha convocato tutti i primi cittadini dell'ambito ad iniziare dall'avvocato Lucio Greco. Il comune di Gela già in commissione tecnica si è schierato per l'addio anticipato a Caltacqua che ha in mano la gestione trentennale del servizio idrico integrato. Una relazione è stata trasmessa alla regione ma Palermo ha fatto sapere che toccherà all'ATI decidere sulle sorti del servizio. Allo Stato come hanno avuto modo di accertare ieri mattina i sindaci convocati non c'è ancora il passaggio di consegne definitivo. Dal lato CLS è in liquidazione alla nuova assemblea territoriale idrica costituita con alcuni anni di ritardo. Bisogna completare dei passaggi senza avere le piene consegne e non sarà possibile valutare le determinazioni assunte in commissione, lo spiega proprio il sindaco Lucio Greco. Il primo cittadino ribadisce che la regione ha fatto sapere che tocca all'ATI decidere sulle sorti del servizio. Greco si è sempre messo alla testa del fronte istituzionale, contrario ad una prosecuzione del rapporto con la società italo spagnola. La città è segnata infatti da un servizio idrico ma è veramente efficiente e da guassi che sono all'ordine del giorno. Il gestore, nonostante le enormi difficoltà causate agli utenti, continua però ad imporre bollette d'oro che negli ultimi mesi hanno provocato lo sdegno di tanti cittadini. Inoltre sarà necessario approfondire l'aspetto della disciplina transitoria nel passaggio di consegne da ATO ad ATI. Pendono comunque due lodi arbitrali favorevoli a Caltacqua e sfavorevoli all'ATO. Parliamo di circa 20 milioni di euro e anche in questo caso sarà necessario avere certezze prima di assumere ogni deliberazione. I sindaci si riuniranno nuovamente in assemblea, forse a breve, prima di arrivare ad un eventuale scioglimento del contratto. Saranno tanti nodi burocratici e legali da dipanare.